e rieccoci nuovamente insieme a ospiti della grande muraglia mi piace definirlo così questo brand che si chiama grit wall che è un brand apprezzato sul mercato e che naturalmente è presente qui all'interno di pastorino in corso alla mano 48 sono in compagnia di enzo bussolino che mi dirà i vantaggi le condizioni d'acquisto super allettanti di questo mese i vantaggi sono veramente tanti primo abbiamo l'opportunità di poter avere le vetture disponibili in pronta consegna parliamo del nuovo steed 6 2004 benzina e gpl quindi venite a chiederci la prova su strada venite a provare la differenza e l'efficacia di questo nuovo mezzo che può essere un mezzo di piacere o un mezzo naturalmente per il vostro lavoro immatricolato autocarro 5 posti trazione posteriore oppure integrale con le ridotte oppure le marce lunghe quindi per un viaggio a lungo a lungo tragitto possibilità di poter acquistare delle vetture a prezzo veramente interessante turbo diesel steed 5 in pronta consegna 17.900 euro netto iva o la possibilità qui alle nostre spalle abbiamo il monovolume compatto h6 con trazione anteriore oppure trazione integrale a partire da 17.500 euro come diceva qualcuno per chi ha i capelli di un colore diverso dall'oscuro come il sottoscritto quelli rimasti non approfittarne pura follia ma quando questo per tutto il mese di aprile e naturalmente apertura straordinaria anche per domenica 22 aprile disponibilità di chilometri zero disponibilità di chilometri zero naturalmente sì con circa un 30 per cento di risparmio dal prezzo di listino il circa non vuol dire in difetto ma vuol dire in eccesso quindi su una vettura da 30.000 euro sono oltre 9.000 euro di sconto condizioni d'acquisto davvero vantaggiose grandi possibilità anche di risparmiare con le chilometri zero e tutto questo il 21 di aprile 21 di aprile che il sabato 22 di aprile che la domenica quindi disponibili per tutto il mese di aprile naturalmente ricordo per coloro che si fossero appena sintonizzati sul nostro programma pastorino vuol dire vendita vetture nuove vetture chilometri zero ma vuol dire anche assistenza e magazzino ricambi bene io ti ringrazio cortese disponibile come sempre ringrazio voi per l'ascolto e come sempre linea alla regia